A Castellabate la spiaggia è a misura di famiglie e bambini. Lo attestano i pediatri con il conferimento della bandiera verde 2021. La spiaggia di Santa Maria rientra infatti tra le località turistiche considerate più idonee alle esigenze dei più piccoli. Il prezioso vessilo sarà consegnato a luglio nel corso del Convigno nazionale delle bandiere verdi. Tra i requisiti presi in considerazione ci sono il mare pulito e l'acqua bassa vicino alla riva, sabbia per costruire castelli e torri, spazio fra gli ombrelloni per giocare ma anche presenza di bagnini e di giochi, vicinanza a pubblici esercizi e spazi per lo sport. L'importante riconoscimento si aggiunge a quelli già ottenuti dal comune di Castellabate come l'essere uno dei borghi più belli d'Italia e bandiera blu dal 1999. Tra le diverse tipologie di turisti che Castellabate riesce ad attrarre per le sue bellezze c'è sicuramente una grossa percentuale di famiglie con bambini più piccoli che possono trovare il giusto ambiente con arenili sabbiosi e ben curati. Il nostro territorio, dichiara il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri, grazie al lavoro dei tanti operatori turistici locali tende sempre di più ad ampliare la gamma dei servizi con un occhio di riguardo ai più piccoli. Siamo quindi molto fieri di aver ottenuto questo importante riconoscimento.